Manuel Zatano, che sensazioni hai provato, che cosa hai sentito quando ti hanno detto che saresti entrato in campo, quando Anastasi ti ha chiamato? Diciamo che un po' mi sono preoccupato all'inizio, ma con la preoccupazione buona, ero un po' agitato, ma poi quando sono entrato ho capito che non potevo fallire. Allora è andato tutto bene, per fortuna, perché ho visto un po' quando mi sono lanciato la palla, poi sono andato un po' in confusione e poi per fortuna l'ho beccata. Anastasi mi aveva detto che ti avrebbe fatto esordire presto, è stato di parola, te l'aspettavi? Ma me l'aspettavo sì e sì e no, perché magari quest'anno poteva non succedere, ma poteva succedere il prossimo anno, gli chiedo grazie, gli dico grazie perché sono molto felice, sono molto contento. I tuoi compagni cosa ti hanno detto? Prima quando dovevi entrare in campo e poi dopo quando sei uscito? Mi hanno già un po' caricato e quando sono uscito mi hanno fatto i complimenti, poi alla fine è arrivato il peggio, adesso non si sa cosa mi dovrà succedere. Ma adesso ho da bere, paghi tu o paga tuo papà? Papà, perché io non ho ancora tanti, non ho i soldi adesso. Grazie. Grazie.